Pollei femminile oggi in Lussemburgo, sorteggiato il calendario della prossima Champions League. Le campionesse dell'Imoco Volley Conegliano sono nel girone B e dovranno vedersela con le francesi del Nantes, le turche del Fenerbahce Istanbul e le russe dell'Urla Laloczka e Katerinenburg. L'esordio proprio contro le russe in casa il prossimo 11 novembre per coach Santarelli. Un girone molto impegnativo, poteva andare meglio, ha detto, nel sorteggio, ma siamo in Champions e le avversarie facili non esistono. Grazie.